Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come rimuovere le applicazioni che non si disinstallano. Se vi è capitato di imbattervi in un'app che non ne vuole sapere di lasciare il vostro smartphone è perché ha accesso all'amministrazione dello smartphone. Come fare per risolvere il problema? Premetto che questo tutorial viene fatto sul Note 10 Plus quindi potrebbe variare la procedura da dispositivo a dispositivo. Andate nelle impostazioni, quindi sull'ingranaggio, andate su dati biometrici e sicurezza oppure sicurezza e tappate su altre impostazioni di sicurezza. Da qui app dell'amministratore dispositivo. Come vedete qui ci sono delle applicazioni che sono attivate e che quindi hanno i permessi amministrativi. Quindi se un'applicazione non può essere disinstallata dallo smartphone vi basterà tappare sull'applicazione poi su disattiva per poi disinstallarla.